Questa cosa dei barrucchieri, diciamo in uno scenario pur così difficile, suscita un moderato ottimismo. Eh sì, è di gran conforto per chi ci tiene al proprio aspetto. Allora, gli artisti Paielle di Giovanni hanno voluto riflettere su questa apertura e vogliono raccontarvi la storia di una signora che si rivolge piena di fiducia e di speranza al suo coaffaire Gualtiero, proprio dopo aver saputo che Gualtiero potrà rimanere aperto. E occuparsi della sua testa. Quindi si rivolge in musica a Gualtiero e canta così. Prego, prego, prego. Non restare chiuso mai Gualtiero Può restare aperto per davvero Può venire ancora da te la gente E rifar così la per Manente Belle parole Manente Manente Far la tinta o le mesh Ci spero E che vedo solo in te Gualtiero E non sbatterò la testa al muro Grazie a te il bulbo mio ha un futuro 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 Il DPCM Ha un gran cuore sai Tutto sembra inutile Manco afferciamai, solo tu qualchiero, con l'Extension 2. Questa testa mia, valorizzerai. Chiudono palestre e lei, balene, ma rimane aperto il parrucchiere. Senza più l'adecolo, razione, scatta certo l'arivo, l'uzione, l'uzione. Non restare chiuso mai, qualtiero, puoi restare aperto per davvero. Può venire ancora da te la gente e rifar così la permanente, permanente. Qualtiero, qualtiero, non restare chiuso mai, qualtiero.